Buongiorno, vi do il benvenuto anche a nome di FME, a questo evento che ormai è una tradizione immancabile di inizio autunno e di questo dobbiamo ringraziare sicuramente Metel. È passato giusto un anno dall'ultimo evento, era giusto il 5 ottobre dell'anno scorso quando abbiamo fatto l'ultimo evento e in questo anno FME e Metel hanno lavorato e discusso ampiamente su molti progetti e molti temi. Ne sono un esempio il progetto nazionale sulle statistiche di vendita che dopo ormai più di un anno di lavoro vedrà, e qui ormai mi sbilancio, vedrà la luce entro la fine dell'anno o al più tardi nei primi mesi, nel primissimo inizio del 2019. A tale riguardo vorrei ringraziare pubblicamente qua il CDA di Metel che con il suo assenso ha permesso di far sì che l'FME utilizzasse, sfruttasse, passatemi il termine, a pagamento, apro la parentesi e la chiudo, il know-how di Metel, il know-how tecnologico e informatico di Metel per la realizzazione di questo progetto che credetemi ha notevoli difficoltà nella sua realizzazione. Ma non solo, la federazione con Metel ha attivato un comitato permanente di lavoro su Etim, purtroppo come già di chi ha detto anche il presidente Metel, il lavoro fatto da questo comitato è stato ben al di sotto delle aspettative, proprio perché per la mancanza di dati, che ci aspettavamo arrivassero un po' più copiosi da parte dei produttori. Abbiamo riaperto il tavolo di lavoro, come ha detto il presidente di Arame Traagni e Arame FME, per provare a trovare una base comune con cui la distribuzione possa inviare i dati alle mandanti e anche qui ci sarà ancora molto lavoro da fare. Lo cito come ultimo perché è successo proprio settimana scorsa, abbiamo avuto finalmente l'incontro con AICE, l'associazione dei cavisti, dove abbiamo finalmente, o si presume, si spera, finalmente definito l'ultimo tassello che mancava alla catena EDI dei documenti elettronici, mi riferisco all'avviso di spedizione e spero che il 16 ottobre i soci di AICE decidano di accettare quello che si è definito tecnicamente per far sì che anche la catena del cavo, chiamiamola così, possa usufruire in toto della catena EDI dei documenti, con immancabili vantaggi per entrambi i settori. Tutto questo per testimoniare che cosa? Che sostanzialmente per FME, anzi non sostanzialmente, di fatto per FME, Metel è un partner strategico e irrinunciabile. Con ciò vi ringrazio e vi auguro buona continuazione. Grazie.